Una cosa importante, è fondamentale, non esiste più, è morto già da un bel po', Lorenzo il Magnifico, non esistono, voi direte, ma c'è un sacco di gente che mi dice, io non pago per esporre, se tu credi nella mia arte, investi e guadagni dalla vendita i miei quadri, non funziona così, non può funzionare così, perché ci sono migliaia, migliaia e migliaia gli artisti, allora se io devo fare questa cosa, meglio da scegliere col contagocce gli artisti veramente bravi, non lavoro con migliaia e migliaia di artisti, e rientriamo nella casistica di vent'anni fa, cioè quando gli artisti si lamentavano e dicevano, eh ma in galleria espongono sempre i soliti quattro raccomandati, eh ma io non ho la possibilità di esporre, eh ma io non ho la possibilità di crescere, ce l'hai la possibilità, ma devi essere tu in prima persona, a credere in te stesso, a investire come un qualsiasi imprenditore, perché l'artista è un imprenditore, se non ci crede l'artista in prima persona, se non ci credi tu in prima persona, non andrai mai da nessuna parte.